dal post facebook di mare di nolfi del 18 settembre 24 piccolo ma istruttivo episodio questo signor lino giuliano è diventato la star assoluta dell'estate umiliando in ogni modo possibile la sua fidanzata nel programma tentation island in un crescendo senza fine di sguaiataggine priva di remore queste caratteristiche dunque una dimensione incolta che non conosce filtri o limiti reiterata in tv puntata dopo puntata con milioni di persone incuriosite da quanto potesse scendere in basso gli sono valse la convocazione tra i vip del grande fratello la champions league dei reality show fino a quando non ha scritto una parolina omofoba in dialetto napoletano in risposta a una provocazione su facebook per questa parolina lino è stato immediatamente escluso da reality maltrattare per settimana in tv la fidanzata gli ravalsa la convocazione una parolina sbagliata sui social sgradita alla nota lobby ha causato l'istantanea squalifica così è sempre più chiaro chi comanda in certe dinamiche e non sono le donne che convocazione che convocazione